Beh, il mio sogno di conquistare Hollywood e diventare un'attrice rinomata sta finalmente per iniziare. Oggi c'è il mio primo casting. Oh ragazzi, spero che vada tutto bene. Ora devo solo cambiarmi i vestiti. Ho sentito che c'è anche Jenny Sinclair. È destinata a ottenere la protagonista perché suo padre miliardario è troppo influente. Vuoi dire Jenny, la bellezza senza talento, non è niente di speciale. Suo padre è pieno di soldi e si dice che la madre sia un'attrice famosa, ma dopo la sua nascita l'ha abbandonata per un ruolo nel cinema. È così ingiusto. Come possiamo competere con una tipa ricca con una storia paterna triste? Sì, sono Jenny Sinclair, la figlia del miliardario Rod Sinclair e la presunta figlia di una misteriosa attrice famosa. La gente pensa che essere ricchi significhi avere la vita facile. Sbagliato. Mio padre si rifiutò di parlarmi di mia madre, quindi non sapevo nemmeno chi fosse. Ed era del tutto contrario ai miei sogni di recitare. Vedete, dovevo assolutamente vincere questo ruolo con le mie forze. Così mi avrebbero preso sul serio. È quasi il mio giorno, sono così nervosa. Il film si chiama The Servant, quindi la protagonista è una domestica. Mentre la signora Sharma, un'attrice veterana appena tornata da Hollywood, avrà il ruolo della spietata padrona. Ah, ci siamo! Spero di non dimenticare le battute. Il prossimo, Jennifer Sinclair. Ignorando il brusio delle voci alle mie spalle, salì tranquillamente sul palco e sorrisi alla signora Sharma. Sembrava un po' sorpresa quando mi vide. Portami una tazza di camomilla. Camminavo col vassoio quando, ops, inciampai e caddi e la tazza si frantumò sul pavimento. Ragazza incompetente, ti rendi conto che quella tazza vale più di te? Eh? Questo non c'era nel copione? Stupita rimasi lì con un'espressione confusa. Cioè, signorina Sinclair, come può essere un'attrice se le sue reazioni sono così terribili? Recitare significa anche improvvisare, non solo imparare il copione a memoria, signorina. È chiaro che non hai fatto le tue ricerche, visto che non sai nulla del personaggio. Riacquistai la calma, mi scusai in fretta con la signora Sharma e pregai il regista di lasciarmi riprovare. Non ho tempo da perdere. Come può una nata con un cucchiaio d'argento in bocca a capire la vita di una cameriera? Ti prego, vai, le altre stanno aspettando. Così il mio casting da sogno divenne un incubo. Mi sembrava che il mondo intero ridesse di me. Signorina, la prego, si alzi, deve mangiare qualcosa. Non si abbatta, ci saranno molte altre occasioni. No, quella era la grande occasione e l'ho sprecata. Luca Semmingworth mi odia. Questo significa che l'intero settore mi eviterà. Oh, lui! Mia zia è la sua governante e dice che è un orrore lavorare per lui. Ha licenziato cinque governanti nell'ultimo mese e ora nessuno osa candidarsi. Non farti abbattere da lui, tutti sanno quanto sia odioso. Hai appena detto che Luca Semmingworth sta cercando una domestica e che tu conosci la governante di lì. È vero, ma è il modo perfetto per mostrare che non sono solo un bel faccino. Sarò una ricca ragazza viziata, ma so ancora interpretare il ruolo di domestica meglio di chiunque. Ti prego, aiutami o farò lo sciopero della fame. Io, io... Prima che potesse rispondere, presi il bicchiere di latte e lo bevi tutto d'un fiato. Ok, allora siamo d'accordo? Ehi, sono io, Jenny. Sembro una vera domestica, vero? Ricorda quello che ti ho detto e non mettere mai piede nell'ufficio del signore senza richiesta. Ora vai in magazzino e portami le decorazioni natalizie. Oh, questa scatola era così pesante. All'improvviso urtai qualcosa e cadendo tutte le decorazioni natalizie si sparsero a terra. Oh, cosa c'era sotto di me? Oh no, ero sdraiata sopra qualcuno. Oh mio Dio, era Lucas! Mi alzai velocemente e mi scusai, ma lui si limitò a rimproverarmi e poi se ne andò. Mi sentivo stupefatta mentre prendevo le decorazioni, quando mi si avvicinò una tipa. Sei la nuova domestica, eh? Non pensare che essere bella significhi poter sedurre papà per diventare un'attrice famosa. Ti do un consiglio, non sognartelo neanche. D'ora in poi questa domestica servirà a me e solo me. Che sfortuna, era solo il mio primo giorno e già mi ero messa contro Lily, la figlia del regista. È famosa nel mondo delle modelle per la sua personalità davvero sgradevole. E infatti da quel giorno, ogni volta che era a casa, passava ogni secondo del suo tempo a tormentarmi. Una volta mi chiese di portarle del tè caldo, ma non appena io posai il vassoio, lei cambiò subito idea. Voleva che il suo tè fosse freddo, così rimasi in piedi a sventolare il tè per mezz'ora. Poi in un'altra occasione mi ordinò di stare a bordo piscina a mezzogiorno con un vassoio di frutta. E dopo ogni giro mi costrinse a darle da mangiare un pezzo. Non c'è da stupirsi che ebbi un colpo di calore e caddi in piscina, cosa che doveva essere stata esilarante per Lily. Beh, chi ride oggi può piangere domani. Il giorno dopo, mentre annaffiavo le rose in giardino, la vidi recitare la parte della domestica davanti a suo padre attraverso la finestra della sala. Sembrava che anche lei volesse avere il ruolo principale. Credo che dovresti concentrarti sui tuoi progetti pubblicitari. Non hai imparato le battute e il tuo finto pianto è terribile. Sai almeno da quale libro è tratto questo film. Poi se ne andò, lasciandola con i suoi capricci. In quel momento Lily mi sorprese a ridere lì in piedi. Così per punizione mi ordinò di pulire ogni singolo libro della biblioteca. Non importa, tanto mi piacevano i libri. Mentre ero sulla scala a pulire, mi capitò di vedere la copia originale di The Servant, il libro da cui è tratta l'opera. L'ho presi dallo scaffale, quando d'improvviso il rumore della porta aprirsi mi spaventò. Rimisi velocemente a posto il libro e cercai di scendere la scala, ma poi inciampai e... Delle mani salde mi presero la vita e mi aiutarono ad alzarmi in piedi. Aveva una felpa col cappuccio, una maschera e occhiali da sole. Oh mio Dio, un ladro mi aveva salvato! Chi sei? Come sei entrato? È violazione di domicilio! Sai di chi è la casa che stai cercando di svaliggiare? E tu sai con chi stai parlando? Un ladro? Ridicolo! Poi abbassò il cappuccio e si tolse gli occhiali e la maschera. Oddio, era Jack Jerome, l'attore più famoso del momento! Prima che potessi reagire, l'urlo acuto di Lily ci fece trasalire entrambi. Jack, sei qui? È così eccitante che tu stia con noi per i prossimi mesi! Sono una tua grande fan! Con grande sgomento di Lily, Jack la ignorò e uscì con freddezza dalla stanza. Quindi Jack fu scelto come protagonista maschile di The Servant e, per evitare che il suo passato già scandaloso colpisse il film, Lucas voleva che Jack rimanesse qui durante le riprese. Comunque, anche se non mi piaceva affatto, ma almeno con lui qui, Lily era occupata ad aggrapparsi a lui invece di infastidirmi. In questi giorni approfittavo delle pulizie notturne per studiare il libro originale. L'ultima audizione si avvicinava e dovevo capire il mio personaggio meglio di chiunque altro. Pulivo la cucina mentre leggevo, quando di colpo sentì dei passi. Hm? Chi poteva essere a quest'ora? Allora, ti piace questo libro? Però è confuso, vero? Vuoi dire che da domestica non sono abbastanza intelligente da capirlo? Non so perché tu sia stato scelto come il dolce, gentile e sincero Alfred. Sei chiaramente il suo opposto. Si chiama recitazione, cara. Quindi vuoi dire che un attore deve essere proprio come il personaggio nei film? Allora devi essere più cauta, visto che ho appena fatto il pazzo omicida nel mio ultimo film. È davvero sgradevole. Discutere con un arrogante come lui è inutile. Avevo appena fatto qualche passo quando scivolai, ma Jack allungò la mano e mi prese la camicia, aiutandomi a non cadere a faccia a terra, ma facendomi strappare la camicia. Arrossi per l'imbarazzo e cercai di sistemarla. Tieni, prendi questo, disse mentre si toglieva la giacca e me la metteva intorno alle spalle. In quel momento all'improvviso apparve Lily. Vedendola, Jack lasciò in fretta la cucina. Si precipitò verso di me e mi strappò la giacca di Jack. E adesso? Hai già cambiato obiettivo? Ma lascia che ti ricordi, sei solo una stupida domestica. Jack è mio! Oh, povera Lily, che ragazza delirante. Non sono interessata a Jack, ma non ci vuole più di uno sguardo per capire che anche lui non è interessato a lei. A causa dell'incidente di ieri, Lily mi fece svegliare alle 4 del mattino per preparare tutti i tipi di torte esistenti sulla terra. Avevo appena finito di decorare l'ultima infornata, quando lei corse in cucina, mi strappò il grembiule e i guanti e se li infilò. Non ebi il tempo di capire cosa succedesse, quando entrò Jack e lei gli porse rapidamente il piatto. Assaggia! Mi sono alzata presto per farli per te! Che falsa! Jack stava per mettere in bocca un pezzo di torta, quando notai che era alle mandorle! È allergico alle mandorle! Fermo! Quella torta ha le mandorle! Ecco, prendi questa! Prese la torta e mi ammiccò prima di andarsene. Sì, la sua personalità fa schifo, ma... oh ragazzi, come resistere a quella mascella e a quei bellissimi occhi profondi. Naturalmente Lily era furiosa e mi fece preparare il tè. Ma non importava quanto bussassi alla porta di Jack, lui non le apriva. Così lei gettò con rabbia il vassoio per terra e mi urlò di venire a pulire. Oh cielo, era un tale disastro! Il tappeto era macchiato di tè e c'erano pezzi di porcellana ovunque. Stavo prendendo i pezzi quando... ahi! Mi tagliai la mano! Jack apri subito la porta e vedendo la mia mano sanguinante mi portò nella sua stanza e mi aiutò a fasciarmi. Non sapevo che avesse questo lato caloroso. Che sorpresa! Nel weekend il regista faceva una riunione per il cast e la troupe del film, quindi il mio tempo fu occupato dai preparativi. Ora posso dire di aver compreso appieno cosa significhi essere una domestica. Non c'è lavoro che non provai. Una volta sbottai anche alla governante che ero una barista. Così mi diede la preparazione dei cocktail. Stavo cercando di capire la ricetta di un cosmopolitan quando entrò Jack. Abbastanza buono, ma forse ci vuole più succo di mirtillo. Vuoi che siano allegri, non che svengano. Conosco tutti gli ospiti, quindi posso dirti quali cocktail servire loro. È una bella cosa. Potrei chiedergli più sulle mie future co-star. Parlammo con passione di vino, cocktail e del libro The Servant. Scoprì che era abbastanza dolce e non assomigliava a uno snob che la stampa dipingeva. Mentre parlavo e bevevo mi sentì un po' stordita. Di colpo Jack mi si avvicinò. In realtà ti trovo accattivante. Quindi ora puoi smettere di giocare. Giocare? Eh? Pensi di piacermi? Sei ubriaco. Stavo per andarmene quando Jack mi fermò. Cadi sempre davanti a me. Ti ricordi la mia allergia alle mandorle. Stai leggendo il libro di cui sono protagonista. Se non ti piaccio perché sei stata con me tutto questo tempo. Guardai Jack in modo confuso. In effetti ogni volta che lo affrontavo sentivo il mio cuore sobbalzare. Vedendomi arrossire Jack mi sollevò delicatamente il mento e mi diede un dolce bacio sulle labbra. Proprio lì un urlo mi fece saltare e quasi cadere. Ancora! Ah! Che diavolo state facendo voi due? Corsi freneticamente fuori dalla cucina lasciando Lily urlarmi dietro. Mi sedetti fuori dalla piscina finché non mi ricomposi. Era stato inaspettato. Il mio primo bacio era stato con Jack, l'attore scandaloso che odiavo di più. Credo di dovermene andare prima che le cose si complichino di più. Dopo essermi ricomposta tornai in camera mia per fare le valigie e vedi che i miei vestiti erano buttati per terra. E lì seduta sul mio letto tutta compiaciuta c'era Lily. Sventolava con la mano il mio passaporto e il copione. Jenny Sinclair conosco il tuo segreto. Che umiltà abbassarsi a fare la domestica solo per ottenere un ruolo in un film. Immagina lo scandalo se la stampa lo scoprisse. Nessuno oserebbe collaborare con una serpe come te. Ripresi con rabbia le mie cose ma non ci riuscì. Lily prese il telefono per filmarmi e minacciarmi. Fai ciò che dico o il video diventerà virale. Allora non solo il tuo caro papà saprà che hai lavato i bagni tutto il giorno ma immagina il danno che le tue bugie faranno alla sua preziosa reputazione. Stava giocando con la tipa sbagliata. La mia esperienza recitativa era finita. Non sono più il suo burattino. È ora che capisca chi è il vero maestro di questo gioco.